Scevola della nuova origina. Come ho detto a Bottaro, ho visto una bella partita con due squadre ben messe in campo. Anche a me il Parigi è sempre giusto, però vi ho visto molto nervosi sia da una parte che dall'altra. Siete una squadra come il Borgo Incrociati e penso San Bernardino che mirano a salire. Volevo un tuo commento in generale ed un commento sulla partita. Grazie. Siamo due squadre che giochiamo con la stessa intensità agonistica e queste sono le partite che è sempre bello giocare. Comunque è stata maschia e il pareggio è stato un risultato più giusto. Magari con un pochino più di forbizia abbiamo potuto portarlo a casa l'ultimo minuto e non prendere gol. Siamo ancora all'inizio, sono le prime partite e vedremo anche se ci sarà qualche altra squadra che poi cercherà anche di salire e si inserirà nel gruppo di quelle tre che abbiamo detto prima. Diciamo che i nomi che davano per favoriti all'inizio anno potrebbero essere quelli giusti. Magari qualche outsider, come siamo stati noi l'anno scorso, potrebbe rivelarsi. Però diciamo che quelle tre o quattro squadre sono quelle che si giocheranno il campionato. Noi speriamo e vogliamo esserci da davanti. Ok, in bocca al lupo per le prossime partite. Scevola e verrò a vedere a turno una squadra o un'altra. Grazie, ciao.